Dall'Europa 8 milioni di euro a favore del Biellese e della Baraggia per i progetti di sviluppo, coesione e sociale che riguardano le aree omogenee. A Cittastudi il Presidente della Regione Alberto Cirio, l'Assessore Elena Chiorino e Chiara Caucino, il Sottosegretario della Giustizia Andrea Del Mastro hanno incontrato i sindaci del Biellese per spiegare l'opportunità da cogliere. Si tratta di risorse che provengono dal Fondo Sociale Europeo 2021-2027 e il territorio laniero avrà a disposizione 5,6 milioni per l'area omogenea biellese e 2,6 milioni per l'area omogenea Baraggia. 63 sono i comuni coinvolti. Mettiamo in campo oltre 8 milioni di euro per consentire a 63 amministrazioni comunali della provincia di Biella di realizzare una serie di interventi strategici attesi da tempo, ha spiegato Cirio. Formazione, welfare, sviluppo sostenibile non sono più soltanto principi altisonanti da sbandierare a qualche convegno, ma diventano progetti concreti a servizio di sviluppo, ha dichiarato il Sottosegretario Andrea Del Mastro. Ogni comune dunque potrà richiedere il contributo entro il 31 maggio, candidando, attraverso l'area omogenea di appartenenza, un massimo di tre proposte, una di valore fino a 100 mila euro, una seconda fino a 250 mila euro, una terza fino a 500 mila euro, con l'importo minimo mai inferiore a 50 mila euro. E sulla base delle richieste presentate, la Regione definirà un piano di sviluppo per ciascune aree omogenea e assegnerà i finanziamenti ai progetti ritenuti più strategici.